E' perché noi percepiamo deboli per un senso malato, un senso materno malato, perché non ce ne andiamo? E allora dobbiamo affrontare questo problema con noi stessi, perché se non lo affrontiamo non li possiamo neanche aiutare. Ti guardi allo specchio e non riconosci il tuo volto, vedi soltanto quello che ti hanno tolto. E non riesci più a lavarvi quei segni che hai incisi sul cuore, a togliere tutto lo sforzo, ti senti addosso. Ma poi ogni volta ti prenderai la torta. E come un calion che non suona più, la tua vita è ferma e non c'è. Non ricordi più quello che eri tu, non pensare che chi ti fa del male ti ama perché l'amore non è così. E non hai più la forza e pensi che non ci sia via d'uscita, che tanto ormai è andata storta questa vita. Ma poi ogni volta ti prenderai la torta. E non hai più la forza e pensi che non ci sia via d'uscita, che tanto ormai è andata storta. E non hai più la forza e pensi che non ci sia via d'uscita, che non ci sia via d'uscita. E non hai più la forza e pensi che non ci sia via d'uscita. E non hai più la forza e pensi che non ci sia via d'uscita. Perché l'amore non è così. Perché l'amore non è così. Perché l'amore non è così